Bene, buonasera a tutti, concludiamo questa prima densa giornata del convegno dedicato alla primi 60 anni della pubblicazione della struttura originaria di Emanuele Severino avendo il piacere di ascoltare non solo lui ma anche il professor Biagio De Giovanni che ringraziamo per aver accolto questo invito a presenziare qui stasera. Sono con me il professor Goggi, il professor Lenoci per eventuali interventi a latere rispetto a quanto ci diranno di Severino. Primi 60 anni, all'alba dell'eternità, è stato dato un titolo con una qualche ambizione ma giustamente potrebbe venire subito la tentazione pensare a cosa è successo in questi 60 anni. Tranquillizzo tutti, non farò nulla di tutto ciò. Mi limiterò a ricordare quel che è accaduto alla filosofia in questi 60 anni. Accennavo stamattina in apertura di convegno, dando il saluto come presidente dell'Associazione degli Studi Pensiero di Emanuele Severino, in questi 60 anni una certa estenuazione del metodo dell'analisi filosofica è fatta sempre più una scolastica, nel senso meno nobile del termine. Il ritrarsi del pensare al fare storia del pensiero, nobile attività, ma che non può ridurre questo soltanto la filosofia. Siamo arrivati, e citavo Rorti stamattina, a parlare di post-filosofia. Il trionfo, a quanto pare, di un pensiero che si è voluto fare debole. Cosa ha corrisposto a questo farsi debole del pensiero, del pensiero filosofico? Se scorrete i giornali delle ultime settimane, l'avete fatto come l'ho fatto io, mi sarà rimasta in mente, mi sarà rimasta l'immagine delle due scimmiette clonate dai cinesi, dai ricercatori in Cina. La relazione tra primati, animali molto più simili a noi di tanti altri. Avrete letto dei primi embrioni creati in cui si arriva ad un'ibridazione tra la pecora e l'uomo. Cosa è poche settimane fa. Avrete forse letto che una struttura di Google, una struttura di ricerca di Google, si chiama DeepMind, ha realizzato un super computer, AlphaZero, che in quattro ore ha imparato tutte le mosse possibili degli scacchi e sta battendo sistematicamente tutti i campioni che accettano la sfida di giocare una partita con questo computer. E pare che questo computer stia elaborando forme di pensiero diverse da quelle a cui noi siamo abituati. Sia come si sia, credo che oggi qualunque scienziato sia convinto che se qualcosa si può tecnicamente fare, qualcuno ci sarà che lo fa. Nell'ambito della comunità scientifica. Alla faccia, verrebbe da dire, del commitment etico per cui non tutto ciò che è tecnicamente possibile è anche eticamente doveroso da farsi. E questa è la situazione, permettetemi la battuta, arridatece il pensiero forte. Dobbiamo avere il coraggio di tornare ad una filosofia come ha fatto e fa da più di 60 anni. Emanuele Severino e si misura con i temi di fondo del pensiero. Con ciò che fa del pensiero non uno strumento per affrontare specifici problemi, ma fa del pensiero ciò che caratterizza lo sforzo umano di vivere consapevolmente la sua esperienza umana. Ecco, io mi fermo qui. Poche battute improduttive mi sembravano doverose, ma solo pochi minuti per non togliere la parola e non togliere spazio alla parola di Biagio De Giovanni che ora ascoltiamo per poi ascoltare nostro comune maestro Emanuele Severino. Prego, professor De Giovanni. Vorrei ringraziare per questo invito e mi dà l'opportunità oggi nei tempi naturalmente che ci siamo in quale oggi ci siamo organizzati di una con Emanuele Severino in occasione dei 60 anni della struttura originaria. Io ho incontrato la filosofia di Severino scusate questo piccolo preambolo personale troppo tardi per poter diventare severiniano. Penso che quando l'ho incontrata e l'ho incontrata su un tema che ci accomuna è la filosoficità intrinseca all'Europa della filosofia e il destino dell'Europa legate insieme. Quando ho incontrato questo tema e ho incontrato Severino in occasione della riflessione su questo tema ha avuto un colpo naturalmente un colpo impressione grande della prospettiva che Severino apriva. sono rimasti sempre degli interrogativi delle domande Severino sa che io non sono in grado di fare altro che fargli delle domande anche se le domande in filosofia sono importanti perché è un classico che viene da lontanissimo il domandare in filosofia però io non so fare più di tanto rispetto alle cose di Severino ma prima di avviare qualche domanda sul tema di oggi perché aggiungo immediatamente non mi riesco a convincere Severino lo sa perché abbiamo già avuto una discussione in questi anni questa idea della tecnica che da mezzo si tramuta in scopo ma su questo io voglio ascoltare soprattutto lui oggi ponendogli un paio di domande più specifiche ma prima di fare questo io vorrei dirvi che il mio intervento di oggi con l'orologio sott'occhio quindi mi manterrò nei confini che abbiamo indicato vogliono provare a capire che cosa è stata la struttura originaria quale funzione ha avuto rispetto a quali temi a quali grandi questioni aperte perché io amo così il ragionare di filosofia non io ho intitolato il mio piccolo abstract che riguarda la struttura originaria spero si tradurrà in una relazione storicizzare la struttura originaria voglio cercare di chiarire che cosa significa per me non ho la forza non ho entrare nel meccanismo della obiezione tecnica sulle modalità con le quali si costruisce un concetto filosofico interessa anzitutto cercare di capire a quali domande risponde ho individuato due temi e voglio semplicemente accennare naturalmente perché da soli potrebbero impegnarci in una discussione assai lunga tutto il novecento è preso nella morsa del destino dell'Europa la filosofia del novecento è una filosofia sul destino dell'Europa largamente anche sulla finis Europa tutti quasi io faccio qualche nome perché sono nomi di riferimento più particolari per la nostra discussione di oggi e non solo per questa a cominciare da Heidegger il destino dell'Occidente perfino certe scelte politiche di Heidegger andavano nella direzione di immaginare Leavitt disse ha confuso il passo dell'essere con quello dell'ESA insomma il rapporto tra filosofia e politica è molto complicato e soprattutto nel novecento un rapporto particolarmente particolarmente drammatico tutto il pensiero europeo del novecento ha posto il problema del destino ho ricordato Heidegger l'idea dello sradicamento una crisi che nasce dallo sradicamento e se mi consentite nei tempi una brevissima lettura di un testo la faccio perché questi sono secondo me testi con i quali sono anche domande a Severino sul suo rapporto con Heidegger scrive Heidegger in questo piccolo testo che vi leggo e che sta nell'essenza della verità ciò che in Platone è già in corso lo svanire dell'esperienza fondamentale lo svanire dell'esperienza fondamentale cioè di una determinata posizione di fondo dell'uomo nei confronti dell'ente e la perdita di forza della parola Letheia nel suo significato capitale rappresenta solo l'inizio di quella storia attraverso la quale l'uomo occidentale in quanto esistente ha perduto il fondamento per giungere nell'odierna infondatezza alla fine lo sradicamento come qualche cosa che mette in moto una crisi radicale dell'essenza dell'essenza umana europea che era un tema che gli proveniva per certi aspetti dal suo maestro da Husserl non solo nella crisi delle scienze europee ma nella celeberrime conferenza di Vienna del 1900 Europa stanca ma filosoficamente centro del mondo quindi se finisce il centro del mondo e l'Europa centro del mondo che cosa sarà del mondo questi erano i filosofi eurocentrici del novecento e se mi permettete ancora due citazioni quella di Carl Schmitt sono pensatori che hanno segnato un'epoca e sono al centro il tema della tecnica e nelle opere fondamentali di Schmitt il tema è questo cioè come l'omologazione planetaria è il passaggio attraverso il quale si rivela la fine del nomos cioè la fine della potenza la fine del nomos della terra la fine del nomos eurocentrico ed è proprio la tecnicizzazione del puro positivismo legalistico come dice lui se mi permettete un richiamo a un filosofo semidimenticato lo so ben letto Croce ma noi napoletani in qualche rapporto con lui lo abbiamo sempre mantenuto il filosofo forse sottovalutato siccome mi è capitato di prenderlo in questi ultimi mesi per varie ragioni con un po' di nuovo commosso su certe sue pagine consentitemi questa espressione tutto quello che il croce ultimo vive nella separazione tra azione e accadimento cioè che gli fa venire meno l'equilibrio della sua filosofia della filosofia come metodologia della storiografia che cosa voglio dire con questo punto su cui forse mi sono fermato fin troppo per i tempi che abbiamo che l'opera di Severino storicizzare la struttura originaria significa che la struttura originaria vuole essere una risposta inedita una risposta nuova una risposta grande al tema della finis Europa al tema del destino dell'Europa agli interrogativi che come dire questo nucleo centrale in cui filosofia e potenza si sono legate insieme in una storia terribile e drammatica la crisi di questo è una domanda è una domanda fondamentale la struttura originale di Severino non ho bisogno di sottolineare ma adesso gli aspetti generali è una risposta nuova rispetto anche a tutti gli autori che ho citato il modo Heidegger e Severino secondo me è un nuovo qualche questione in questo e la cosa bella dell'opera di Severino è stato che questo mi consenti questo passaggio proprio molto personale questi 60 anni nei quali tu hai non solo mantenuto il concetto fondamentale che hai fondato che hai inventato filosoficamente per tanti aspetti ma lo hai allargato prodotto in questa produzione di doppio tipo quella terribilmente serrata teoreticamente nella quale io tante volte non riesco a penetrare e quella anche molto più come dire accattivante e capace di fornire elementi concreti visibili per tanti al tema della crisi di civiltà e al tema della crisi della teoria il secondo tema che io vorrei portare in evidenza il pensiero di Severino partecipa vivamente della fine delle filosofie del conoscere la fine delle filosofie del conoscere il complicato rapporto tra Gentile e Severino su cui ho osato scrivere un piccolo libro a cui Severino mi ha anche onorato di una risposta anche abbastanza analitica che cosa è se non un rapporto nel quale la fine delle filosofie del conoscere significa per Gentile una cosa fondamentale che il divenire si realizza e lui critica Hegel quando dice Hegel è solo analisi del divenire no il divenire è atto è prassi è vita è sentimento e l'istoria Re Romgestaro non è la storiografia non c'è questo rapporto tra storicità e storiografia nodo nel quale si è pensato di poter risolvere o rispondere con un sapere storiografico ai temi della crisi no non è così e questo vale per Heidegger secondo me vale per Severino fortemente io sono quindi fine delle filosofie del conoscere in che senso io adesso faccio un'affermazione generale sintetica perché i tempi corrono penso Severino secondo me è fortemente originalmente legato alla crisi delle filosofie del conoscere alla conclusione delle filosofie nel suo pensiero io credo è molto io stavo nel mio appunto scritto tutto e forse naturalmente troppo ma io sono affascinato da questo tema in Severino nella lotta tra l'isolamento della terra e il destino della terra e lo scontro fra l'isolamento della terra e il destino della terra quindi la filosofia di Severino fa parte della lotta tra le filosofie europee della lotta che l'Europa è stata anzitutto una lotta tra filosofie una lotta tra le filosofie e questo tema che Severino ha posto con tanta forza facilissima penetrazione secondo me e quando credi di averlo capito Severino poi ti dice una cosa e ti rendi conto che non sei riuscito ad andare fino in fondo perché questa lotta fra l'isolamento della terra e il destino della necessità non è una lotta fra due entità distinte separate è una lotta che le tiene profondamente insieme per cui Severino scrive più o meno credo che sia una citazione testuale questa che ho davanti il grande errore è possibile solo perché dietro c'è il destino della necessità quindi tra errore e verità tra non verità e verità si stabilisce un difficilissimo rapporto un problematico rapporto perché l'alienazione che produce il fondamento della storicità la storicità è possibile perché dentro questo meccanismo c'è il destino della necessità non fuori di esso non come qualcosa che sta di fronte ma è impegnato in questa lotta lotta tra le filosofie tu accogli una interpretazione di questo tipo del tuo pensiero cioè di dare dare fortemente l'accento questo atteggiamento anti-gnosiologico fortemente prassistico se vogliamo usare questa espressione qui interviene il tema della tecnica perché interviene qui tanto perché questo l'ho appena accennato ma tutti gli autori di cui ho parlato e tanti altri di cui si potrebbe parlare nel novecento sono stati presi dal tema della tecnica meno gentile questa cosa interrogativo a Severino come mai gentile che tu chiami il filosofo della tecnica per avere portato come dire dal sottosuolo dritto la fine degli immutabili non più di fatto di avere teorizzato la necessità della fine degli immutabili come mai gentile non tematizza il tema della tecnica perché gli rimane così estranei naturalmente la mia risposta da vecchio attualista critico ce l'ho perché gentile esclude che il divenire possa essere come dire egemonizzato dal mezzo della tecnica divenire è il divenire delle potenze della vita e dovremmo discutere e sarebbe interessante ma assai complicata a farsi qui poco tempo e la critica degli immutabili la presenza degli immutabili la critica degli immutabili sia ciò che libera il divenire da ogni limite è così è solo la presenza dell'immutabile che libera il divenire dal limite oppure il limite può avere un altro tipo di carattere gentile quando risolve la logica inetica il risultato finale di gentile è questo la logica diventa etica diventa prassi diventa sentimento diventa vita non c'è qui dentro uno sforzo di non farsi assorbire possiamo usare questo termine dalla tecnica e vivere le molte potenze della vita le contraddizioni e le lotte tra le potenze della vita il dritto la morale la politica e farle vivere nella assolutezza del divenire che non ha più dietro di sé gli immutabili ma ha dietro di sé la propria realizzazione la ricchezza infinita della propria realizzazione è possibile che tutto questo finisca in un punto si esaurisca in un punto e cioè che la crisi degli immutabili la critica radicale degli immutabili non può che condurre alla tecnicizzazione del mondo del mondo della vita è possibile che non ci sia una problematizzazione di questa di questa tua di questa tua ipotesi questo lo dico alla luce naturalmente come dire di quelli che sono stati per me ognuno di noi ha vissuto della formazione nella propria formazione filosofica perché ha studiato filosofia con certi classici per me i classici sono stati la scienza nuova di Vico e la fenomenologia dello spirito di Hegel perché li richiamo qui aspettiamo quel rapporto tra storia ideale eterna e storia che corre in tempo che è l'apertura geniale della scienza nuova sulla modernità e quel mantenersi della contraddizione dell'ingez silva dentro questo rapporto a me mi ha sempre prodotto il fascino di questa connessione intensa io potrei sostituire storia ideale eterna con destino della necessità potrei sostituire storia che occorre in tempo come isolamento della terra però come dire la dialettica la connessione tra questi due elementi fondamentali che impedisce che tutto abbia un esito che tutto finisca in un punto la permanenza l'eterno che è in questa connessione mi ha sempre affascinato è la ragione per la quale io quando leggo le tue pagine sulla lotta fra il destino della necessità e l'isolamento della terra te considero il cuore della tua riflessione ma se avviciniamo per un attimo la fenomenologia dello spirito di Heger non troviamo anche lì questo rapporto fra il sapere assoluto che non è affatto risultato la consapevolezza interna la discrasia del rapporto fra esperienze questa filosofia insomma che mantiene viva la tensione anche la tua la tua filosofia mantiene viva la tensione ma perché a un certo punto è a che perché poi questo esito finale come io qui ho una domanda che forse considero quella centrale nella discussione di oggi avevo fatto uno schema assai più complesso ma naturalmente la mia domanda è questa la civiltà della tecnica è l'ultima stazione del calvario dell'umanità no domanda no e perché io faccio questa domanda faccio questa domanda perché sembra dalle cose che io riesco a capire del tuo pensiero che è molto complesso su questi temi che non è affatto vero che noi ci dobbiamo arrendere anzi anzi che l'espansione universale generalizzata della teccheria genera una sorta di contraccolpo pare di capire in questo senso ti ho detto l'ultima stazione che cosa può venire dopo il momento in cui la tecnica è diventata e passata da mezzo a scopo annientando quindi l'autonomia delle molteplici potenze della vita e permettete un richiamo a quello che diceva anche un momento fa il ministro simpaticissimo parlato che oggi sembrano più che mai in vita queste contraddizioni queste tensioni sembrano più che mai in vita queste tensioni altro che globalizzazione della tecnica la cosiddetta globalizzazione sta creando un'immensa serie un'immensa rete di reazioni mi sono occupato di tema molto affascinante Hans Kelsen e Kelsch mit oltre il novecento lavoro a cui ho lavorato molto in questi anni cosa voglio esemplificare la lotta tra il nomos della terra e il normativismo per esempio la lotta tesissima nella vita della storia umana oggi tra la territorialità del nomos e la strattezza del cosmopolitismo contro la quale c'è una riflessione nuova sul diritto sulla morale sulla politica questo se lo mettiamo nella riflessione sulla tecnica che tu porti avanti e che hai argomentato in maniera ricchissima da tanto tempo sta già all'origine sta già nella struttura originaria direi non c'è bisogno di mi fonda la domanda mi accompagna la mia domanda sull'ultima stazione del Calvario perché la mia domanda è questa che cosa avviene nel momento in cui la tecnica è diventata scopo e tutto il resto scompare nella sua autonomia non ho né modo né tempo né capacità di dare a fondo il concetto di potenza ma evidentemente io parto da un'idea di potenza assai più variegata assai più capace di realizzare se stessa ho l'impressione che la mente il punto di arrivo della tecnica come scopo o è l'ultimo destino dell'umanità o è l'ultima stazione del Calvario io non vedo una terza via non vedo una terza perciò mi vorrei fermare qui perché alcune questioni ne avevo tante come vedete qui ma si potrebbe stare ore a parlare naturalmente con Severino io mi considero uno che ha sempre origliato la porta dei filosofi così e anche da scrivere perché l'ho messo per iscritto nel senso che certe volte le voci mi giungono chiare altre volte mi giungono un po' confuse allora io dico è la mia difficoltà è penetrare però in questo rigliamento che ho fatto su tanti grandi classici ecco è venuta questa idea aperta cioè in cui la disseminazione delle potenze è irreversibilmente il senso dell'umanità il senso della storia delle contraddizioni della storia delle contraddizioni delle aporie del pensiero che inutilmente cerca di risolvere e allora per chiudere la semplice battuta per me perché ho citato Vico e ho citato Hegel ho citato la fenomenologia dello spirito e ho citato la scienza nuova perché per me Vico l'eterno vive nella storia in tempo nella storia che corre in tempo così come il sangue circola nelle vene una sorta di processo di immanentizzazione problematico perché poi è mai ad esaurire ma mai grazie 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 a Viaggio De Giovanni ha davvero aperto questa sessione come penso meglio non si potesse la parola a Emanuele Severino ringrazio molto l'amico Viaggio De Giovanni tutte le volte che mi trovo a discutere con lui provo soddisfazione per la profondità l'impegno filosofico altro che origliante è un filosofo di quelli veri e proprio in previsione di questa caratteristica del professor De Giovanni non ho preparato una relazione perché mi aspettavo che mi avrebbe detto le cose che mi ha detto e allora proverò riprendendo una nostra antica discussione proverò a rispondere alle sue domande che sono tante io ho provato qui a prendere nota e cercherò di decifrare la mia caligrafia cominciando dalla prima battuta che De Giovanni ha espresso che abbia detto vorrei storicizzare la struttura originaria in qualche modo in questa battuta è contenuto tutto quello che poi hai sostenuto allora se dovesse anch'io esprimere in una battuta tutto quello che dirò in risposta alle belle domande professor De Giovanni o domande e obiezioni come dici giustamente e direi esprimendo anch'io una battuta che la storia è all'interno della struttura originaria e cioè si tratta di strutturare originariamente la storia storicizzare la struttura originaria la struttura originaria intende essere la ripresa del discorso incontrovertibile aperto dei greci la ripresa che ha delle sue motivazioni non so se ci sarà tempo per indicarle una ripresa che è dovuta all'impossibilità di sostenere l'incontrovertibile così come è stato sostenuto dai greci ma per ora lascio la spesa questa ricitazione la giustificazione di questa affermazione io ti potrei domandare ma in che cosa consiste il fondamento dell'affermazione dell'esistenza della storia o la filosofia si mette al livello della scienza e si propone come un sapere ipotetico che in questo caso ipotizza l'esistenza della storia lo dicevo anche qui all'amico Vitiello qualche tempo fa e la filosofia si propone come scienza e suppone l'esistenza della storia e allora segue un certo insieme di conseguenze molte delle quali siamo d'accordo per esempio siamo d'accordo sul carattere filosofico dell'Europa e degli scontri europei ma appunto tu mi fai delle domande ma anch'io le faccio a te in base a che cosa si afferma che la storia esiste domani avremo qui il professor Prist il quale mette in discussione il principio di non contraddizione ma è tanto scandaloso mettere in questione il principio di non contraddizione come mettere in discussione l'esistenza della storia allora se l'affermazione della storia è una domanda questa è una domanda critica che riguarda e De Giovanni e Croce e Gentile e Hegel presuppongono l'esistenza della storia allora presupponendo l'esistenza della storia si può storicizzare la struttura originaria ma se tu non mi giustifichi l'affermazione dell'esistenza del fondamento dell'esistenza della storia e allora si tratta di mettere in questione la tua storicizzazione della struttura originaria e cioè il nostro discorso è opinativo le opinioni di De Giovanni sono di altissimo livello ma oggi il clima culturale è quello di esprimere opinioni culturali che esigono preparazione che esigono intelligenza ma che rimangono a livello di ciò che una volta il pensiero filosofico chiamava doxa opinione Eraclito parlava polimazia multiscienza multiscienza ecco se rinunciamo alla filosoficità della filosofia e cioè all'esigenza di un rigore che non guarda in faccia nessuno e niente se facciamo questa rinuncia allora scambiamo opinioni allora ecco la mia domanda la mia prima domanda è questa in base a che cosa tu affermi l'esistenza della dimensione storica e rispondi a questa domanda allora ti poni a livello di ciò che chiamo struttura originaria tratterà di vedere in che differisca la tua struttura originaria da quella contenuta nei miei libri ma la storia diventa il contenuto della struttura originaria e non può pretendere di storicizzare la struttura originaria l'onda di questa tua critica hai insistito in modo estremamente interessante su quello che è il tuo il centro del tuo discorso il professor De Giovanni permettimi di dirlo un metafisico che sostiene l'insuperabilità della contraddizione allora qui mi tocca di rispondere perché la domanda del professor De Giovanni chiede appunto ma perché si deve andare oltre la contraddizione in altre occasioni discutendo tra di noi ho avuto l'amabilità di dirmi che gli piace destino della necessità ma gli piace molto di meno la gloria la gloria è un mio libro destino della necessità è un altro mio libro ma perché gli piace destino della necessità e meno la gloria perché destino della necessità sottolinea come ha detto prima in modo precisissimo lo scontro tra la struttura del destino la struttura uso la parola del destino in senso etimologico lo stante destino della necessità sottolinea lo scontro tra lo stante e ciò che muove guerra allo stante e che cosa è che muove guerra allo stante ma il nostro comune modo di vivere perché penso che alcuni di loro qui la maggior parte però sono degli specialisti ma se andiamo fuori in strada e chiediamo quali sono le opinioni per le quali uno sarebbe disposto a giurare queste opinioni non hanno nulla a che vedere con ciò che chiamo struttura originaria o struttura originaria del destino il nostro comune modo di vivere si oppone a ciò che viene chiamato e è stato chiamato anche questa mattina struttura originaria allora il professor De Giovanni ama la contrapposizione è critico rispetto al superamento della contraddizione allora qui ti dirò anche io in poche parole perché il superamento della contraddizione è necessario ma è una risposta che non riguarda i miei ultimi scritti è presente in Essenza del Nicolismo detto in due parole credo che anche tu sia d'accordo sul fatto che la contraddizione è non verità tanto è vero che mi sembra che il professor De Giovanni veda la vita nell'uomo nello sforzo di uscire senza peraltro mai riuscirvi e dall'essenza dell'uomo nello sforzo di uscire dalla contraddizione questo mi fa pensare che la contraddizione nel discorso del professor De Giovanni detto sia non verità altrimenti perché sforzarsi di uscire dalla verità allora da un lato c'è la non verità della contraddizione in destino del pardon in Essenza del Nicolismo la sequenza dimostrativa che adesso devo ridurre poche battute la sequenza dimostrativa cioè dimostrativa che dimostra la necessità di uscire dalla contraddizione è la seguente se fosse impossibile uscire dalla contraddizione questa impossibilità non vorrebbe forse dire che l'essere nella contraddizione è la verità è impossibile uscire dalla contraddizione la parola impossibile ha questo significato allora essere ripeto nella contraddizione è la verità ma prima avevamo detto che la contraddizione è la non verità sembrava che tu fossi sotto con un nì però potremmo discutere ma ripeto per quanto riguarda il primo lato se la contraddizione non è non verità perché uscirne perché vivere perché tentare di toglierla allora la situazione è questa l'essere nella contraddizione è insieme sub eode verità e negazione della verità ora quando il professor De Giovanni dice l'uomo è destinato alla contraddizione penso che tu non dica che l'essere destinato alla contraddizione equivalga al non essere destinato alla contraddizione che vuol dire che accetti quello che la tradizione intende come principio di non contraddizione voglio dire che di fronte all'esibizione di una situazione in cui la contraddizione è e non è verità il modo in cui tu ti atteggi rispetto alla tua tesi ti dovrebbe far dire e non puoi accettare questo essere e non essere insieme nella verità questo detto così molto alla buona la risposta alla domanda del professor dell'amico di Agio De Giovanni quale è sempre una grande soddisfazione discutere a questa sua domanda passerei a quell'altro gruppo di domande relative alla tecnica e al che cosa c'è dopo ricordo che questo è uno dei punti l'ultima stazione del capitale abbiamo sentito anche prima il ministro Calenda che in qualche modo ti dava ragione perché anche Calenda dice la tecnica non è l'ultima voce non è l'ultima stazione si apre alla politica eravamo insieme a Firenze dove c'era Amato Paciari e Ciocca e tutti in qualche modo difendevano la necessità della sopravvivenza della politica ora anche qui direbbe dissipare molti equivoci si può parlare di politica in due modi rapporto sociale rapporto tra gli uomini all'interno della polis e come la gestione di questo rapporto la politica come gestione è quella praticata dai politici in questione non è la politicità dell'esistenza umana in questione è la gestione politica di questa politicità quando sostengo la necessità del tramonto della politica non mi sogno di sostenere il tramonto della politicità non avanzo neanche questa tesi perché mi piaccia la tesi come tale no il prevalere della tecnica è qualche cosa di tragico noi il nostro tempo è tragico non ha nulla a che vedere questo discorso col trionfalismo tecnicistico scientistico delle sorti trionfali e progressive dell'umanità nulla di tutto questo per non dilugarmi troppo dirò che la tecnica è la forma più rigorosa della follia essenziale dell'uomo quando parlo di follia essenziale parlo di qualcosa di più radicale di ciò che nel racconto veterotestamentario è il peccato di Adamo peccato essenziale culmina nella tecnica perché la tecnica è la forma più radicale di quell'atteggiamento originario dell'uomo e poi enfatizzato dal pensiero filosofico e la radicalizzazione di quell'atteggiamento in cui l'uomo vuole far diventare altro il mondo comincia Adamo a volere essere Dio quando il serpente gli dice eritis dice a lui e alla sua compagna eritis sicudii Adamo vuole trasformare la propria esistenza in quella del Dio vuole diventare radicalmente altro il pensiero filosofico radicalizza questa volontà nel senso che l'altro non è semplicemente un diverso indeterminato ma è quell'assolutamente altro che è il nulla di cui più volte si è parlato questa mattina è la volontà di far diventare nulla è la volontà di trar fuori dal nulla le cose quello che diceva prima il professor milanesi a proposito il fare ciò che non si dovrebbe fare è un fare che porta alla luce qualcosa che prima non c'era cosa vuol dire qualcosa che prima era nulla questa volontà di fare qualcosa che prima non c'era può esprimersi perché possiede le grandi e terribili parole del pensiero greco essere nulla gratone definisce la produzione poesis come la causa traduzco haitia con la parola causa tra virgolette perché insomma parola complessa la produzione poesis la causa che fa passare le cose ectumeontos eis tu on non essere all'essere la filosofia enfatizza il diventare altro la tecnica è la forma più radicale della poesis è la poesis che ha raggiunto la propria emancipazione più radicale ma perché ha raggiunto ancora qualche minuto perché ha raggiunto questa emancipazione qui che penso di poter rispondere non solo alla tua domanda ma anche a quella che faceva Calenda prima si tratta del rapporto tra pensiero filosofico e in particolare pensiero di gentile e non soltanto di gentile e potenza tecnica potenza tecnica così come oggi è intesa cioè nel senso ecnicistico scientistico è una potenza che avanza con un po' di malafede nel senso che le sapienze tradizionali le dicono appunto quello che il professor Milanese diceva prima cioè le rimproverano il credere che si possa fare tutto ciò che si è in grado di fare mi pare che fosse questo l'intento del tuo discorso la tecnica andiamo in un laboratorio e troviamo un sperimentatore cattolico poniamo e lo sperimentatore si finge fino a un certo punto ma non oltre perché ma perché appunto non si può fare non si può realizzare tutto ciò che si è in grado di realizzare quindi è la sapienza tradizionale a bloccare l'avanzata e l'atteggiamento trasformante e cioè dell'atteggiamento che fa diventare altro le cose del mondo e se non che ancora una volta sono d'accordo o credo che il professor De Giovanni potrebbe essere d'accordo con me e se non che si fa avanti quel convitato di Pietra che è la filosofia in questo caso la filosofia di Gentile e non solo di Gentile perché uso mettere insieme a Gentile anche il nostro grande Leopardi e poi anche Nietzsche ma Gentile visto che qui si sta parlando di Gentile e provo a usare una formula che vada bene per Gentile per Leopardi e per Nietzsche i quali fanno vedere che quel grandioso quadro in cui consiste pensiero tradizionale il grandioso quadro crolla ora la filosofia è nata non come attività di professori di filosofia sono venuti dopo la filosofia è nata perché insomma Aristotele lo dice lo diceva Platone la filosofia nasce da Zauma continuate a dire tante volte anche al nostro amico reale che Zauma non vuol dire meraviglia la filosofia non nasce dalla meraviglia la filosofia Tauma nel suo significato originario vuol dire angosciato terrore il gigante taumante che non è la difficoltà la laboratoria in cui per esempio il matematico vede che la diagonale non è congruente non si tratta semplicemente di difficoltà di ordine intellettuale scientifico no la filosofia nasce per la paura della morte per la paura della morte prima ha provveduto il mito poi provvede ma il mito inventando la soluzione poi provvede la filosofia nel senso che dice non si può inventare la soluzione contro il pericolo estremo bisogna evocare il sapere incontrovertibile bisogna che il rimedio sia un sapere incontrovertibile e qui parte quel evento grandioso che è la storia dell'Europa e cioè della filosofia dall'inizio greco e su fino a Hegel potremmo dire dopo Hegel è il grande crollo del pensiero filosofico quelli che fanno crollare sono appunto i tre nomi che ho dato prima e allora dicevo vediamo di indicare nel modo più semplice perché questo grande esperimento della tradizione filosofica crolla crolla trascinandosi dietro la scienza soprattutto la scienza la letteratura perché tutti loro avranno sentito parlare hanno sentito parlare crisi dei fondamenti dei fondamenti in sede matematica in sede logica Carla parlava di tolerance principle la logica non c'è la logica ci sono le logiche quindi uno non è più vero delle altre il discorso di Goethe in campo scientifico in campo matematico matematica aperta alla contraddizione il discorso giuridico per il quale si dice addio al diritto naturale e lo si sostituisce col diritto positivo ma veniamo allo scossone terribile dato dal pensiero filosofico e c'è una verità incontrovertibile e la verità incontrovertibile nella tradizione ha affermato l'esistenza di un immutabile di un eterno e allora questa verità incontrovertibile è una legge che si impone non soltanto al presente ma al passato e al futuro penso che qui ci siano dei credenti ma ci immaginiamo noi un Dio quale sia il padrone del presente ma sia timoroso rispetto al futuro parlo ai credenti un Dio che sia signore del presente ma che veda con nostalgia il passato perché ormai non è più signore del passato no il Dio eterno evocato dalla tradizione all'interno di un sapere incontrovertibile è un Dio che è signore del presente del futuro e del passato Dio Dio non può meravigliarsi di ciò che sopraggiunge se non si meraviglia allora che cos'è il futuro e il passato per la tradizione filosofica l'abbiamo detto prima le cose escono dal nulla e tornano nel nulla le cose che escono dal nulla sono le cose future quindi le cose future sono nulla però se c'è un Dio il quale è signore del futuro è un Dio che trasforma il nulla in un ente lo entifica e che cosa sono le cose passate le cose diventate ormai nulla di fronte a un Dio che è signore anche del passato sono delle cose che si trasformano sotto la signoria del Dio eterno da capo in ascoltatrici della legge divina detto in una parola se esiste un eterno non può esistere il divenire questo discorso gentile lo fa con una chiarezza formidabile è un peccato che gli stranieri è peggio per loro ignorino gentile ma ignorano una delle forze distruttive più radicali della tradizione filosofica e qui visto che siamo all'università cattolica vorrei dire agli amici cattolici che la Chiesa dovrebbe impegnarsi non tanto nel discutere quel relativismo ingenuo non pericoloso contro il quale la Chiesa si impegna ma dovrebbe impegnarsi contro questa distruzione altro che quella di Heidegger questa distruzione della tradizione metafisica tradizionale questa distruzione operata in nome del ripeto della necessità che se esiste un eterno evocato da una verità eterna non può esistere quel divenire che per tutto l'Occidente è l'evidenza suprema e che è l'evidenza suprema anche per l'amico e professor Biagio di Giovanni il quale quando dice storicizziamo la struttura originaria intende dire mettiamo la struttura originaria all'interno del divenire che cosa ci sarà dopo la tecnica no la tecnica e qui chiudo e chiedo scusa di essere stato così intemperante dopo la tecnica che cosa ci sarà la tecnica è che al termine del periodo intermedio extremamente pericoloso che noi stiamo vivendo e che sfocia nella capacità della tecnica di risolvere i problemi del mondo e qui si tratterebbe di capire che lo tu non l'hai accennato però quel teorema per il quale cambiamento di scopo determina il cambiamento di un agire e poiché le forze che oggi ci servono della tecnica sono destinate a diventare servitrici della tecnica ecco che la tecnica per questo è destinata al dominio ho detto molto male un discorso che andrebbe compulsato punto per punto e che d'altra parte nei certi miei scritti è presente e cosa ci sarà dopo la dominazione della tecnica la dominazione della tecnica è operata in base alla logica della scienza la logica della scienza è una logica ipotetica ma logica ipotetica vuol dire fede quando la scienza può muovere qualche passo solo in quanto ha fede nella capacità dei postulati da esso adottati di ottenere certi risultati la scienza è fede non c'è soltanto la fede religiosa anche noi che crediamo di essere all'università cattolica di Brescia in Lombardia in Italia eccetera siamo nella fede ma la fede e anche qui mi spiace di dover enunciare un teorema che andrebbe bisogno di oculata considerazione la fede è necessariamente dubbio perché la fede tratta come verità ciò che non è verità ma non è che lo dica io lo dice per esempio quella grande forma di fede che è la fede cristiana la fede cristiana dice di sé di essere argumentum non apparentium e apparentia sono le cose che non si vedono allora poniamo che Cristo sia figlio di Dio è un non visibile e allora questa definizione evangelica della fede dice la fede è l'argomento che fa sì che si aderisca al non visibile e aderirvi vuol dire considerare come evidente come una visibilità ciò che non è visibile ecco allora ogni tipo di fede è un dubitare è essenzialmente un dubitare e quindi anche quello che potremmo chiamare il paradiso della tecnica è un dubitare si preparano le condizioni perché questa contraddizione tra fede e dubbio sia oltrepassata in base a quello stesso argomento al quale facevo riferimento prima quando dicevo che l'essere in contraddizione implica il superamento della contraddizione il tuo intervento è stato così ricco la mia risposta così eccessiva che ci sono molti punti che mi piacerebbe li discuteremo è consentito restare ancora un po' a questo mondo però vorrei dire che tu consigli soltanto lo stare a questo mondo laddove la tramonto della fede accade con la morte morte è il tramonto della fede il tramonto della fede è proprio quella gloria che a te non piace dove la fede non è annientata ma è oltrepassata e conservata vorrei dire il nostro sguardo non deve soltanto essere orizzontale vedere cosa sarà che ne sarà dell'uomo sulla terra ma deve essere anche verticale perché ognuno di noi augura loro più tardi possibile possibile ognuno di noi se ne va all'altro mondo questo andare all'altro mondo non possiamo metterlo tra parentesi possiamo ignorarlo quindi non c'è soltanto la tecnica non ha soltanto l'ultima parola a questo mondo la tecnica ha l'ultima parola quando con la morte tramonta la volontà e si fanno avanti quelle figure di cui parlavamo stamattina parlava il professor Marassi non so se ci sia il professor Lenocci il professor Golgi e altri chiedo scusa dell'intemperanza temporale allora posso prego anche qui la complessità dei temi ci porterebbe lontano io mi io provo a rispondere a tre punti anzi il primo non è un punto di risposta è un'osservazione Gentile ha vissuto tutta la vita filosofica convinto di combattere il nichilismo convinto di combattere il nichilismo questo per dire quanto complessa è l'idea di nichilismo in ogni pagina della logica Gentile dice io difendo l'umanità la storia dall'abisso del nulla e lo faccio esattamente attraverso l'eternità del divenire cioè l'eternità del pensiero che diviene dietro c'è l'abisso del nulla dice e secondo me posso dire una cosa semironi semiseria secondo me Gentile avrebbe considerato Severino il vero nichilista nel senso cioè se la battaglia al nichilismo si fa attraverso la potenza della volontà se la volontà è impotente il mondo è la storia all'inazione del fondamento probabilmente dal punto no questo lo sto dicendo poi è una cosa diciamo seria che voglio dire per dire la complessità del concetto di nichilismo il fatto che Gentile cioè quello che da Severino viene giudicato l'interprete più forte mondialmente anche rispetto ad Heidegger per la chiarezza del suo pensiero come il nichilista per eccellenza è quello che ha combattuto tutta la vita contro il nichilismo questo è un problema o non è è un tema che ci deve pietare assillare pietare nel senso che ci rendiamo conto di quanto complicata sia questa domanda sul nulla quanto complicato sia la battaglia contro l'abisso del nulla e che dice ogni sosta è colpa a un certo punto pagina finale della logica che cosa è un bruniano molto bruniano in questo che cosa vuol dire se non in fondo è l'energia vitale che mantiene in vita il mondo è proprio la potenza che mantiene in vita il mondo possiamo su questo elaborare tante tesi diverse ma mi interessava in un dibattito che va a durare stasera chissà quando ancora quanto tempo questo questo punto gentile ha fatto il nichilismo come il suo quello contro il quale valutare in qualche maniera o secondo te ne ho fatto un cenno nel primo intervento questo risolvere la logica nell'etica se ho due cose da dire rapidissima gentile quando gli chiesero era morto il figlio se poteva ammettere l'immortalità del figlio disse no nemmeno lui è immortale cosa vuol dire che eterno è l'atto ma il contenuto dell'atto va nel nulla la storicità del mondo che non va nel nulla per gentile ma io fermerei qui l'osservazione gentile perché non era la cosa principale mi interessava mi interessa questo aspetto della complessità della della battaglia novecentesca contro il nichilismo che vede in severino e in gentile paradossalmente due grandissimi punti di riferimento ognuno pensa però in maniera diversa che cosa è il nichilismo la cosa a cui direvo molto di più e poi c'è quella sulla contraddizione è che io non mi sarei mai sognato di storicizzare la struttura originaria io volevo storicizzare virgolette L maiuscolo la tua struttura originaria per le ragioni per le quali hai scritto la struttura originaria sarei mai proprio sono stato io poco chiaro era mia intenzione di problematizzare è un problema aperto naturalmente il rapporto tra struttura originaria e storicità io mi ponevo un problema molto più se vuoi esterno esteriore ma per me importante e ho provato anche a esemplificare perché qual è stato il ruolo della struttura originaria in questo senso non contestualizzare banalmente ma cercare di vedere il profondo che emerge dall'interno di quel testo eppure quel testo è una eghelianamente è una lettura del proprio tempo del rapporto tra il proprio tempo e il pensiero e ho cercato di individuarla nel tuo entrare in maniera originalissima e con strumenti nuovi nel grande tema della finis europea o comunque del destino dell'europa che occupa l'intero novecento dopo gli anni della grande trasformazione tutto il novecento è preso da questo tema severino impone un'altra problematica mettendosi contro tutto quello che veniva prima è interessante vedere che perché io voglio io intendo il tuo pensiero come un pensiero di lotta filosofica non con l'affermazione di una verità che sta per conto sua lì non si sa bene che cosa vorrei invece se mi permettete ancora pochi minuti io vorrei tornare sul tema della contraddizione fare un tema decisivo e mi permettete ancora sempre io vorrei leggere otto righi che per me sono stati decisivi della fenomenologia dello spirito trarrò da questo veloci conseguenze quindi il tempo che occupo sarà poco Hegel scrive così poi vi dirò perché mi pareva importante leggerlo la vita di Dio e il conoscere divino potranno ben essere ben essere espressi come un gioco dell'amore con se stesso questa idea degrada fino all'edificazione e addirittura all'insipidezza quando mancano la serietà il dolore la pazienza e sottolineato dieci volte il travaglio del negativo il travaglio del negativo in sé quella vita è la stratta uguaglianza e unità con sé e non è mai seriamente impegnata nell'essere altro tenevo a leggere questo testo perché compare l'essere altro e nella estraneazione e neppure nel superamento di queste estraneazioni perché ho letto questo testo perché non usiamo una parola che io non ho sentito nel dibattito di oggi e ti domando ancora una volta una domanda se in che misura fa parte della tua filosofia il concetto di mediazione il problema qui non è la verità della contraddizione naturalmente alla fondazione egheliana di questo problema è la mediazione dei contrari e quando Hegel parla dell'essere altro perché è così importante questa mediazione con la M maiuscola perché quando Hegel parla dell'essere altro seriamente impegnata nell'essere altro e dice che quella verità che sta per conto suo non è impegnata nell'essere altro non dice una cosa un'entità che viene dal nulla e va nel nulla perché il nulla è già passato come Enzo Vitiello ci ha insistentemente analizzato sulle prime tre categorie della logica è già risolto il rapporto tra essere nulla nel divenire la mediazione è all'origine allora l'essere altro è la mediazione non è l'annullarsi dell'ente è il modo in cui è la modalità attraverso la quale l'ente entra nel mondo si fa mondo si fa storia se vuoi allora il problema non è la verità o non verità ho finito sostiene sostiene che l'afferma che è tutto eterno è tutto eterno è che sostiene come dire il rapporto tra dipende da come intendiamo che cosa significa tutto eterno tu hai detto che Hegel non è che affermi venire dal nulla e andare nel nulla usare questo termine così è la mediazione è al passato che appartiene il rapporto tra essere nulla della zufellicai cioè l'accidentalità l'empirico gentile poi lo ripete l'empirico è ciò che è ma poi se ne va via va nel nulla è il trascendentale il categoriale che è eterno Hegel è platonico l'altro testo sul divenire altro è la sostanza è il movimento del far esporre se stesso o in quanto essa è la mediazione del divenire altro da sé con se stesso perché io metto al centro la mediazione a questo punto rispetto alla tua domanda sulla contraddizione la categoria che io uso a quel punto è quella non è più la contraddizione è verità o non verità è la mediazione che media tra non verità è verità o che media tra finito e infinito e il mondo esiste per questo se no non esisterebbe il mondo chiarissimi che cosa vuol dire mediazione per te brunianamente ti ho dato adesso questa cosa la mediazione dei contrari cioè è la potenza del negativo che fa la mediazione non il nulla il negativo che è il nonno non è il nulla questo nella messa in questo modo vuol dire che prima ci sono i contrari che poi devono essere unificati invece capisco che in Hegel il metodo dialettico contempli qualcosa del genere per Stand è un contraddizio proprio perché la determinazione è isolata i contrari sono isolati è proprio quanto un ego che l'originario sia l'originaria separatezza l'originario è l'originaria unità dei contrari che se parti dalla separatezza parti dalla contraddizione Hegel infatti dice l'intelletto è separante e quindi è contraddicente io cito sempre quei paragrafi 79 80 81 della principropedia delle scienze filosofiche in compendio di cose chiarissimo parte dall'isolamento allora ci si contraddice la struttura la struttura originaria è l'unità originaria dei contrari ci intendiamo sul fatto che unità ma 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 cioè mediazione certo certo quella è la mediazione ma perché la mediazione ecco ma perché viva la mediazione e non la non mediazione rispondo perché la mediazione è quel l'essersè la cui negazione è autonegazione cosa di cui non gode la non mediazione dico qualcosa no io poverino indico qualcosa a cui negazione nega ne parleremo domani con Prista che è interessante in relazione a quello che ci stiamo dicendo noi stasera nega appunto il principio di non contraddizione il principio trascendentale e come tu fai vedere l'autonegazione della negazione della separatezza originaria non so se mi spiego come la fai vedere l'autonegazione della negazione della separatezza originaria e mi scrive ci si fa vedere l'autonegazione della negazione dell'unità originaria sempre a pensare che ragionando sulle scusate che ragionando sulle categorie della logica esser già passato il nulla nell'essere e l'essere nel nulla mette all'origine l'unità unità che poi naturalmente si tratta di stabilire in che termine non possiamo farlo così velocemente si mette in rapporto con il divenire cioè con la storicità c'è una differenza o non c'è una differenza profonda tra considerare e dire ma che mi assilla sempre e mi inquieta del tuo discorso potrei riportare al tema della lotta fra destino della necessità e isolamento della terra e che diciamo nei precordi della metafisica moderna europea stava proprio nel modo in cui Hegel mette il rapporto fra oggettivazione e allenazione se vuoi qualità attraverso le quali la storicità è oggettivazione ed è anche devastazione e bisogna poi insomma io volevo scusate se è possibile ti voglio un rapporto con posso fare un'ultima domanda al professor un rapporto con Heidegger con leggendo in questi giorni i saggi sulla tecnica di Heidegger permetti leggo pochi righi sappiamo per Heidegger la tecnica e l'imposizione allora dice Heidegger la minaccia per l'uomo non viene dalle macchine e dagli apparati tecnici possono anche avere effetti mortali la minaccia vera ha già raggiunto l'uomo nella sua essenza il dominio dell'imposizione che per lui è la tecnica minaccia fondando la possibilità che all'uomo possa essere negato di raccogliersi ritornando in un disvelamento più originario e di esperire di esperire così l'appello di una verità qui dice più principale così continua là dove domina l'imposizione vi è pericolo nel senso supremo qui viene la famosa frase il famoso verso di Hölderlin dove c'è il pericolo cresce anche ciò che salva e Heidegger conclude così se l'essenza della tecnica è il pericolo estremo se nello stesso tempo la parola di Hölderlin dice il vero il dominio dell'imposizione cioè della tecnica non potrà esaurirsi nel semplice fatto di mascherare ogni illuminazione di ogni disvelamento ogni risplendere della verità e qui viene una frase decisiva che interroga il tuo modo di concepire la tecnica sogna che proprio l'essenza della tecnica alberghi in sé la crescita di ciò che salva essendo per Heidegger l'essenza della tecnica non tecnica proprio l'essenza della tecnica alberga in sé la crescita di ciò che salva non potrebbe darsi allora che guardare più a fondo in ciò che la tecnica è come un destino del disvelamento possa aiutarci a far apparire nel suo sorgere ciò che salva tra tecnica e salvezza c'è un rapporto intrinseco la connessione profonda nel senso che se l'essenza della allora domanda l'essenza tu accetteresti una frase come quella di Heidegger l'essenza della tecchere non è tecnica e ben ricordo il tezzo tedesco a proposito della parola essenza usa la parola Wesen Wesen ma quando Heidegger parla di essenza della tecnica parla di Wesen della tecnica Wesen vuol dire essere allora scavando a fondo della prassi si trova l'essere che non è la prassi e non è l'ente coinvolto dalla prassi siamo agli antipodi del discorso che vado che vado conducendo ora prima abbiamo lasciato da parte il gentile e la tecnica perché il gentile è il filosofo della tecnica cosa lo dirò anche di Heidegger nonostante la sua critica alla tecnica il gentile è il filosofo della tecnica perché prima sono stato un po' sommario nell'esposizione di questo punto perché erano tanti gli argomenti estremamente interessanti presentati dal professor Biagio Giovanni che ho molto contratto gentile è il filosofo della tecnica perché amo dire quando parlo di queste cose dice alla tecnica che non esiste quel Dio che rende impossibile il divenire prima dicevo gentile mostra insieme a Leopardi e a Nice forse o qualche altro gentile mostra che se esiste l'eterno non può esistere il divenire allora fino a che non si dice questo la tecnica è intimorita dalle voci della sapienza tradizionale quando si fa vedere che non può esistere un eterno è come se si dicesse a un uomo che ha le gambe me lo diceva stamattina uno dei relatori che ha le gambe ma non sa di averle gli si dice guarda che le gambe corri gentile dice alla tecnica anche se non esplicitamente guarda che non hai davanti a te alcun limite quindi puoi ultrapassare ogni limite Heidegger sembra che in Glassenheit è molto chiaro vede la tecnica vede nella tecnica che è pericolo anche ciò per il Wesen non in quanto tecnica ma in quanto essenza della tecnica e non è tecnica allora perché anche Heidegger filosofo della tecnica perché il concetto di Gelassenheit cioè l'alternativa alla tecnica il lasciare essere lascia essere che cosa l'andirivieni delle cose l'andirivieni da Heidegger è inteso da capo come lo intendeva Platone come uscire dal nulla e andare nel nulla allora la Glassenheit è lasciare essere la matrice della follia quella fede nel diventare altro che culmina come dicevo prima della tecnica è chiaro che Heidegger non intende essere un filosofo della tecnica ma di fatto lo è questa sarebbe la risposta una cosa c'ho questi sei righi di Severino dall'essenza dell'ichilismo che leggo forse probabilmente a conclusione l'avvento della civiltà della tecnica è accompagnato da molte condanne ma il nostro tempo è incapace di comprendere che ogni suo tentativo di rifiuto e di superamento di questa civiltà si fonda sullo stesso modo di pensare da cui essa è nata che è la compiuta maturazione grazie grazie davvero è stata una grazie per tutti grazie a Biagio De Giovanni grazie Emanuele Severino alla prossima occasione mi viene da dire che speriamo l'associazione abbia la possibilità di creare prima di quanto non pensiamo grazie veramente grazie a tutti 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 grazie a tutti